Ok ragazzi nuovo video e come avete visto dal titolo vorrei tornare a parlare di macros vorrei tornare perché quando ho fatto un video tempo fa sul fatto di doversi distaccare dal calcolo dei macros ha creato bene o male un po' di scompiglio e tante persone sono entrate totalmente nel panico dell'idea ok se non conto i macros che cosa devo fare cioè come posso muovervi per cui vorrei cercare di ragionare ancora più a fondo su questo argomento con voi anche perché molti sono interessati al concetto come posso fare a non calcolare i macros il problema secondo me non è tanto capire come si può fare a muoversi senza macros quanto piuttosto capire perché non ha senso calcolarli partiamo da qua perché è insensato voglio calcolare facendovi capire un attimo quali sono le dinamiche che portano a quei numeri che voi leggete per farvi capire quanto siano assolutamente del tutto imprecisi se non praticamente inutili allora il primo concetto è che le metodiche utilizzate in laboratorio di default tutte le metodiche di calcolo di macros di micro elementi di calorie eccetera sono altamente imprecise hanno un grande margine di errore quindi quando prendiamo già il singolo alimento che viene studiato quindi voglio calcolare che cosa contiene una mela voglio calcolare che cosa contiene la farina d'avena ecco già le metodiche che vengono utilizzate sono super imprecise partendo dalla bomba calorimetrica è sostanzialmente una stufa inventata nell'ottocento che va a calcolare quanto calore viene sprigionato nel momento in cui si va a bruciare un alimento ma noi non siamo una bomba calorimetrica il nostro organismo non è così perfetto non brucia del tutto un alimento molte parti da un punto di vista di gestione di assorbimento non vengono proprio processate le fibre non utilizzano e non vanno a dare calorie le scorie azotate vengono eliminate quindi non è assolutamente la stessa cosa quindi già di default il concetto del calcolo delle calorie è impreciso e quando iniziamo a parlare di macronutrienti, di micronutrienti lo è ancora di più perché parliamo di unità di misura sempre più piccole per cui la variabile inizia a diventare importante oltre alle difficoltà tecniche di laboratorio che ci sono c'è un altro discorso che è quello che la composizione stessa dei singoli alimenti varia tantissimo in laboratorio si prende una mela si prende un campione di farina d'avena o quel che è ma logicamente non si va a misurare tutta la farina d'avena che viene messa in commercio e la variabilità è veramente immensa dipende dal suolo dalla composizione del suolo dipende dal clima dalla stagione specifica dipende nel caso degli animali da cosa mangiano e dal clima e dalla composizione del suolo di quello che stanno mangiando dipende da come viene processato se l'alimento viene conservato più o meno a lungo e come viene conservato dipende se viene esposto a contaminanti insomma tantissime variabili che logicamente fanno sì che la mela che stai mangiando la farina d'avena che stai utilizzando non ha gli stessi nutrienti nella maniera più assoluta di quella che è stata calcolata e che trovi nelle tabelle ora considerato questo in parallelo sorge il problema di come vengono fatte le etichette nel senso che noi abbiamo l'idea che nel momento in cui vado nel risogallo nel risogallo trovo tot nutrienti che sono differenti dal riso pirivicchio allora il risogallo è stato messo nella bomba calorometrica oppure gli stabilimenti hanno preso un loro sample e messo nella bomba calorometrica hanno calcolato i macronutinenti microelementi quindi gli stabilimenti bene o male sono quelli e avrò tot valori nutrizionali che si differenziano dal riso pirivicchio perché nel riso pirivicchio è stato fatto un altro procedimento e hanno visto che ci sono valori differenti assolutamente no, non è questo sarebbe un processo troppo costoso per l'industria alimentare è troppo dispendioso anche da un punto di vista di tempo per cui la legge semplicemente permette a chi elabora e processa delle etichette nutrizionali di far riferimento a delle tabelle che hanno trovato e possono essere utilizzate delle tabelle che sono molto differenti tra loro proprio perché in base alla variabilità che abbiamo visto può uscire di tutto ossia delle tabelle che vengono fatte per esempio negli Stati Uniti d'America con dei calcoli che vengono fatti sul loro suolo con il loro clima sono totalmente differenti rispetto alle tabelle che vengono fatte dello stesso alimento però coltivato in Italia col clima italiano i procedimenti anche che devono essere seguiti di coltivazione, dimissione e commercio per legge qua in Italia però è totalmente casuale nel senso che magari un'industria italiana che fa una passata di pomodoro utilizza delle tabelle che non sono l'IRRAN ma è un altro tipo di tabelle e l'industria americana magari utilizza proprio l'IRRAN o tabella perché hanno visto che alcuni dei loro pomodori vengono dall'Italia e quindi sono un po' più fedeli l'importante è che siano delle tabelle accettate a livello ministeriale quindi anche qua c'è una grande imprecisione e il fatto di utilizzare delle etichette diverse molto spesso anche con l'aggiunta ai prodotti perché se io faccio un biscotto che contiene della farina di avena delle uova, contiene delle proteine in polvere è un biscotto fit proteico ovviamente tutti questi elementi hanno un loro margine di errore e il fatto che io vada ad unirli insieme e calcolare semplicemente il computo totale la somma totale dei microelementi che trovo va a moltiplicare in maniera esponenziale il mio errore questa è matematica di base ragazzi e conseguentemente avrò un errore ancora più grande di quello che avrei utilizzando i singoli ingredienti e cercando semplicemente le etichette nutrizionali quindi fino a qua abbiamo visto che i metodi di calcolo dei microelementi, delle calorie e dei macronutrienti sono altamente imprecisi già di loro abbiamo visto che c'è tanta variabilità e la variabilità comporta che c'è un'ulteriore imprecisione perché quello che mangio non è quello che è stato calcolato e in più c'è il fatto che le etichette possono essere elaborate semplicemente facendo la somma dei diversi tabelle che ho utilizzato e diversi ingredienti che ho utilizzato e questo aumenta ancora di più l'imprecisione che avrò del mio alimento che vado a mangiare però anche se potessi calcolare in maniera assolutamente precisa impeccabile quello che è contenuto nel mio alimento c'è un'altra questione a monte che quello che mangio non è quello che effettivamente assorbo perché il mio tasso di digestione la mia capacità di digestione e poi successivamente la capacità di assorbimento è assolutamente variabile ossia quello che io mangio non è esattamente quello che il mio organismo assorbe digerisce e va effettivamente ad utilizzare il tasso di digestione e di assorbimento sono variabili in base al nostro stato di salute la salute gastrointestinale la nostra microflora batterica quindi già con questo vado a creare un'ulteriore variabile oltre a questo ci sono delle interazioni tra i singoli nutrienti ossia lo zinco riduce la capacità di assorbimento del rame c'è un'interazione tra calcio, ferro e beta carotene o meglio tra ferro e calcio e ferro e beta carotene per cui potrei assorbire più o meno ferro se lo mangio insieme a delle carote o se lo mangio insieme a del calcio se io ho una carenza nutrizionale per esempio di vitamina C andrò ad assorbire molta più vitamina C per esempio dal limone, dall'arancia piuttosto che una situazione in cui non ho una carenza nutrizionale in cui comunque questo tasso di assorbimento è generalmente più basso allo stesso tempo abbiamo anche un plateau di assorbimento per esempio la vitamina C non si riesce ad assorbire o comunque ha una curva di assorbimento logaritmico quando andiamo a superare i 500 mg non riusciamo ad assorbire più di mezzo grammo di colesterolo quando andiamo a mangiarne tanto quindi anche se ne mangiamo un sacco se ci facciamo 10 uova comunque più di mezzo grammo di colesterolo non riusciamo proprio ad assorbirlo quindi tutto quello che mangiamo non è necessariamente quello che andiamo ad assorbire ma non solo ci sono delle interazioni anche tra i nutrienti che arrivano nel nostro organismo e l'organismo stesso nel senso in base al nostro tasso di bilancia energetica se siamo in surplus o in deficit in base al momento specifico quindi se ci siamo allenati, non allenati c'è una prolificazione di Q4 abbiamo una riserva di glicogeno parzialmente depletata e quindi dobbiamo andarla a saturare i nutrienti che assorbiamo rimangono nel circolo ematico oppure vengono stoccati come riserve adipose o appunto riserve di glicogeno oppure vanno ad essere convertiti in qualcos'altro si pensi all'eccesso proteico che va a essere convertito in glucosio come fonte energetica insomma il destino dei singoli nutrienti è totalmente diverso e quindi questo comporta una grande variabilità dell'impatto che hanno sul nostro sistema quindi questo per dire cosa che non dobbiamo calcolare niente non dobbiamo considerare niente no ci sono sicuramente tanti margini di incertezza di imprecisione per cui l'idea di poter inserire gli alimenti su una e sapere esattamente quante calorie quanto grammi di carboidrati grassi, proteine quanta vitamina C quante fibre sto effettivamente mangiando assorbendo e poterle tracciare nel corso del tempo è pura utopia non esiste assolutamente soprattutto quando i cambiamenti che facciamo sono nell'ordine di 10-20 grammi di carboidrati o di un singolo nutriente questi sono cambiamenti che realmente il nostro corpo non riesce ad apprezzare non riesce a sentire però comunque facciamo bodybuilding facciamo sport e nel nostro caso se per una persona comune la regola è quella di avere una dieta equilibrata varia e sana nel nostro caso sicuramente dobbiamo andare a calcolare qualcosa a contare qualcosa perché logicamente dobbiamo modulare e funzionalizzare quel che mangiamo in base al nostro allenamento e al percorso specifico che facciamo quindi sostanzialmente come possiamo fare e come conviene muoverci allora quello che dobbiamo fare è partire da un'alimentazione cioè stilare un piano alimentare ragionando sui cibi quindi a colazione che cosa mi piace mangiare normalmente avrei secondo dei principi che abbiamo visto in questi video carboidrati grassi e proteine perfetto che cosa mi piace mangiare mi piace mangiare dell'avena mi piace il burro d'arachidi più di quello di mandorle oppure mi piacciono le uova e mi piacciono le proteine in polvere mi piacciono anche i tostati allora mi faccio due esempi due opzioni di colazioni che posso fare quindi l'avena con le proteine in polvere con il burro d'arachidi ci metto magari un po' di mirtilli per aumentare un pochetto le fibre per inserire dei micronutrienti per anche migliorare il gusto e il sapore e in parallelo vado ad inserire magari dei toast di pane integrale delle uova e magari un po' di abume aggiunto in modo da avere una quantità di proteica un po' più alto logicamente in questo caso quello che faccio sarà calcolare quelli che sono orientativamente i macros dei due scenari per avere una composizione diversa non posso pensare di sostituire all'avena con proteine in polvere un toast con una tazza di latte scremato ovviamente i macros saranno totalmente differenti se io un giorno faccio l'uno un giorno faccio l'altro non ho la possibilità di avere una certa standardizzazione della dieta è un follow up stesso discorso vado a fare per il pranzo inserisco del riso mi piace anche il riso venere quindi ce l'ho come variante come fonte lipidica tendenzialmente l'olio evo oppure anche in questo caso utilizzo della frutta secca posso utilizzare del salmone perché mi piace posso utilizzare i gamberetti posso utilizzare la carne magra che mi piace eccetera e anche in questo caso vado a fare dei calcoli sulle varie sostituzioni mi creo in qualche modo delle opzioni diverse che posso andare ad utilizzare quindi per esempio avrò 8 grammi di olio con carne magra piuttosto il salmone in questo caso un po' di meno olio e qua il calcolo dei macros ha senso perché da qualche parte dobbiamo partire e questo gioco vado a farlo per tutti i pasti della mia giornata fino ad avere un'idea più o meno di quelli che sono i macros miei secondo quello che so essere il mio equilibrio bene o male perché all'inizio soprattutto quando non sono avanzato non so bene o male da dove partire non mi conosco ancora e sicuramente i macros sono un indice che può essere utilizzato e sfruttato in questa fase di nuovo badate bene di nuovo attenzione il discorso dell'utilizzare i macros non è perché io voglio essere preciso o ho l'idea che sto facendo un qualcosa preciso al grammo di nuovo il discorso è l'utilizzo dei macros non sta nel fatto che voglio essere preciso al grammo e devo considerare tutto ma è più o meno un'indicazione orientativa da cui devo partire insomma da qualche parte dovrò pure partire quindi possiamo sicuramente utilizzarli accettando che ci sarà un margine di variazione quindi sicuramente ogni giorno le mie calorie e i miei macros saranno molto diversi però bene o male stanno sempre là e sfrutto in parte il principio di omeostasi del nostro corpo ossia che il nostro corpo attua una serie di regolazioni ormonali denzimatiche di nuovo in base a quello che è l'input che gli vado a dare per mantenere la sua meostasi quindi lui già di sé cerca di tamponare questa variazione andando più o meno a regolarla però da qua continuare ad utilizzare i macros nel corso delle nostre settimane nella nostra fase di bulk di cat e calcolare quanti grammi di carbo devo aggiungere o di quanti grammi di carbo devo scendere per ottenere il mio risultato e seguirlo eccetera è di nuovo follia perché stiamo utilizzando un'imprecisione di base che viene moltiplicata come abbiamo visto all'ennesima potenza da tutta una serie di calcoli che vengono utilizzati per arrivare a quei numeri che voi utilizzate nella vostra applicazione per cui da questo punto di vista il ragionamento sui macros è semplicemente un passaggio in più che vi potete benissimo evitare e per ritrovare una maggiore intimità con la vostra alimentazione e anche capire bene cosa il vostro corpo vi sta chiedendo e come muovervi il discorso è ragionare essenzialmente sul cibo quindi se devo salire in bulk in una fase di surplus calorico perché vedo che in base allo specchio la performance c'è il peso tutto quanto devo salire allora la prima domanda che mi devo fare è che cosa aumento a livello di cibo quanto ne aumento a livello di cibo in che momento mi conviene inserirlo e dove ho la risposta principalmente da parte del nostro corpo se sto all'inizio di una fase di bulk ho tanta fame quindi probabilmente potrò fare un up calorico molto più importante ho ancora margini per gestire sicuramente devo salire in maniera un po' più massiccia dove mi conviene farlo tendenzialmente nel momento in cui ho un po' più fame se io durante a metà dell'allenamento inizio ad avere crampi di fame ho un po' di giramenti di testa perché ho troppe poche calorie prima allora magari faccio un pre-workout più sostanzioso aumento un po' di carbo nell'intra workout se invece poche ore dopo il mio post-workout ho molta fame allora inserirò più carboidrati più calorie nel mio post-workout oppure nel post-post-workout oppure ne inserisco uno se prima non lo avevo insomma in base ai feedback del mio corpo li vado ad inserire poi dove sta scritto che voi dovete alzare di 20 grammi di carbo 25 grammi di carbo 30 grammi di carbo in delle tabelle in degli articoli ok va benissimo però in realtà nel momento in cui prendete confidenza col vostro corpo sapete esattamente quanto aumentare dell'alimento quindi io per esempio so che quando devo aumentare le calorie in bulk normalmente mi aggiro su un 50 grammi di riso in più 50 grammi di pasta o se devo aumentare i grassi normalmente lavoro su un 10 grammi in più di olio piuttosto che un cucchiaio in più di burro ad arachidi che più o meno sono quei 20-30 grammi eccetera eccetera quindi so non tanto quanti macros devo aumentare ma quanto devo aumentare dell'alimento di per sé che normalmente vado a mangiare attenzione non crediate che questo vuol dire avere un'alimentazione standardizzata in cui si mangiano le stesse cose perché comunque c'è tanta varietà che potete utilizzare nell'inserimento di frutta diversa di verdura diversa potete crearvi diverse opzioni quindi in realtà il grosso della variazione lo fate veramente da frutta e verdura che sono gli alimenti che in assoluto devono essere variati e rotati più di tutto anche in base soprattutto della stagione perché è là che troviamo la maggior densità nutrizionale anche con importo calorico minimo quindi possiamo aggiungerli in maniera molto tranquilla senza impattare troppo il quadro calorico beneficiando di tanti elementi e micro elementi che ci danno questa varietà nutrizionale e anche là si iniziano a sopraggiungere dei problemi come mi sento un po' troppo gonfio allora diminuisco un po' di carne diminuisco un po' di album e di proteine in generale e compenso con un filo di carboidrati in più oppure vedo che sto mangiando troppa verdura o troppa fibra diminuisco le fonti integrali magari tolgo un po' d'avena e aggiungo i cereali insomma cercate di interpretare i segnali che vi dà il vostro corpo ma di nuovo non dovete ragionare sui numeri di grammi di macronutrienti ma piuttosto ha più senso ragionare sui numeri di grammi di riso degli alimenti questo non perché in nutrizione sia fondamentale e contare il mio punto di vista è che il non atleta non dovrebbe mai pesare il cibo ma cercare di prendere affinità con le porzioni ad occhio però logicamente essendo atleta dobbiamo pesare però se oltre a pesare dobbiamo anche calcolare macronutrienti ovviamente è una fatica in più che non ha assolutamente senso perché è un'illusione che noi ci creiamo che stiamo seguendo e mangiando e terminato i macronutrienti ma così non è quindi ragazzi questo è un po' il punto della situazione di nuovo fatemi sapere se il concetto ben o male passa se vi manda nel panico però posso capire che all'inizio è difficile perché siamo molto legati ai macros però vi assicuro che nel momento in cui vi staccate e ragionate soltanto sul cibo gli alimenti allora imparate a conoscere quello che il vostro corpo vi richiede e in un attimo entrate in un mindset in cui sono gli alimenti che contano e i macros non vi importa più sapere quali sono ok quindi questo è un discorso molto importante dovete prenderci la mano all'inizio è spiazzante però in un attimo ci prendete la mano perché molti di voi mi hanno detto che vorrebbero fare questo passaggio ma non sanno bene come muoversi è veramente veramente semplice ed anzi è assurdo che vi sentiate a disagio da togliere un'imposizione come quella del dover calcolare tutti i macros e logicamente il discorso della variazione non l'abbiamo fatta parlando generalmente della dieta meno male sana dei bodybuilder ma pensate a chi utilizza alimentazioni come l'e-fit-fit-your-macros in cui tutti gli alimenti sono processati là il margine di variazione è veramente abissale e state semplicemente sparando a caso magari pensate stare a 400 grammi di carboidrati e state benissimo a 550 non sono rari i casi in cui queste situazioni sono state viste o noi le abbiamo viste con atleti che arrivavano con tutta la loro tabellina questi sono i miei macros questo è quello che mangio io andavo a riportare le cose nelle tabelle che utilizziamo noi che sono semplicemente tabelle diverse né giuste né sbagliate e mi uscivano un delta veramente di 100 grammi di carbo in più o 150 in più fatemi sapere quindi che cosa ne pensate scrivetelo qua sotto come al solito scambiamo un po' di opinioni e detto questo io vi rimando al prossimo video grazie a tutti